. Anna Tatangelo e Giovanni Caccamo, un caso da gossip, e flirt Anna Tatangelo ha spasso con Giovanni Caccamo. . Gossip, Anna Tatangelo è stata paparazzata, con sorpresa dei fan, in centro a Milano nel negozio della Lego in compagnia del collega Giovanni Caccamo, vincitore di Sanremo Giovanni nel 2015, e poi in un bar. . . Nessuno scoop né certezza sullennesimo flirt CHE hanno attribuito alla cantante dopo la separazione da Gigi D'Alessio. . Pare infatti che Caccamo abbia semplicemente accompagnato Anna comprare un regalo per il figlio Andrea. . D'altronde proprio lei stessa ha dichiarato sui social, e lui l'unico uomo della mia vita riferendosi al figlio. . Anna Tatangelo ha trovato il nuovo amore. . Gossip, la lontananza di Gigi da Anna Tatangelo è un mistero per tutti, e come se la passi dopo la fine della loro lunghissima storia, non si sa. . . Il cantante si è calato in un vero e proprio silenzio stampa, mentre Anna Tatangelo sembra stia vivendo serenamente. . . Lo dimostra proprio il fatto che sia stata paparazzata infatti con Giovanni Caccamo, cantante, meno famoso ma più giovane del partenopeo. . Per lei di Tata è solo rapporto di lavoro o che è del tenero con Giovanni Caccamo?. . Gossip, sicuramente la loro vicinanza si giustifica dal fatto che Anna Tatangelo e Giovanni Caccamo, vincitore di Sanremo Giovanni 2015, stanno proprio lavorando a un disco assieme, magari quindi è solo un rapporto lavorativo. . . Ma ora che sono stati pizzicati dai paparazzi in un negozio in centro a Milano e poi in un bar, a bere insieme qualcosa, la dice davvero lunga. . . Anna Tatangelo, pur stando nei panni di ragazza comune, o di periferia citando una sua canzone, con quella maglietta bianca e cui i jeans attillati non passa di sicuro inosservata, anzi gli occhi sono tutti per lei, compresi quelli di Giovanni Caccamo. . . E Giovanni dunque potrebbe avere interesse e?. . Il cuore di Anna Tatangelo è di nuovo caldo?. . Insomma, potremmo proprio dire che il cuore di Anna Tatangelo stia tornando nuovamente a battere dopo la fine dell'amore con Gigi D'Alessio. . . La certezza che batta per Giovanni Caccamo ovviamente non cè. . Ma chissà se da Cupido non farà proprio la loro collaborazione lavorativa. . Anche perché, a dirla tutta, tra i due cantanti l'intesa è davvero al top. . . Al di là di questo però, tutti i fan di Lady Tata non fanno che essere in attesa di vedere la nostra bella Anna Tatangelo in compagnia di un nuovo fidanzato ufficiale. . Solo il tempo rivelerà qualcosa. . 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